Sì, sicura, sola, la media volta, danza a futuro, che danza a ora, che da sotto in chiesa, dove la cava e sa, danza a futuro. Bene, un applauso, grazieissimo, complimenti, complimenti soprattutto a questa signora che si chiama esattamente? Paola. Paola, di dov'è? Di Napoli. Un applauso a Paola di Napoli. Di quarto. Dove? Di quarto. In provincia di Napoli. Certamente. Viva quarto in provincia di Napoli, molto bene.